Daniele Bossari ha vinto il grande fratello VIP, Luca Onestini secondo Chi ha vinto il grande fratello VIP? Daniele Bossari. Daniele Bossari ha vinto il grande fratello VIP. Il conduttore si è aggiudicato la seconda edizione del reality show condotto da Ilari Blasi e Alfonso Signorini. Il compagno di Filippa Lagerbacca ha prima battuto al televoto Giulia Delellis che contro ogni pronostico si è classificata a quarta, e successivamente Ivana Mrazova e Luca Onestini. Quest'ultimo si è classificato al secondo posto con il 48 delle preferenze. Le restanti 52 sono state tutte a favore di Daniele, che ha così trionfato. Per Boss, come lo chiamano affettuosamente i fan, partecipare alla trasmissione è stata una vera e propria rinascita. Un ritorno alla vita dopo tanti anni bui, dovuti alla depressione che lo ha colpito. Subito dopo aver conquistato il primo posto, Daniele Bossari ha riabbracciato in studio la compagna Filippa e la figlia di 14 anni Stella. Grazie a tutti.